ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita questo vuole essere il primo tutorial in italiano credo almeno dato che ci ho passato qualche ora vi rispondo subito il gioco merita assolutamente sì il gioco può essere adatto a chi ha già apprezzato my summer car assolutamente sì vi voglio spiegare le basi ovviamente il gioco è molto molto più profondo di quello che sembra all'inizio e io voglio parlarvene allora iniziamo con far passare questo giorno ho scelto apposta questa circostanza in modo che il venerdì riesco a farvi vedere un po tutto e andiamo a vedere allora prima di tutto sappiate che dormendo portate a zero la vostra energia cioè la ripristinate ma tante volte non passa minimamente la notte quindi se siete vi ritrovate proprio in notte fonda ricliccando sul letto vi fa saltare la notte cosa che su my summer car non succedeva allora iniziamo ed è venerdì abbiamo mille dollari allora sistema di reputazione in gioco è molto importante infatti qua sul frigo noterete il numero di vostra madre è chiamabile solo da un'ora in poi vabbè noi ci proviamo 555 2109 quindi 555 2109 praticamente vedete ha risposto e abbiamo fatto la nostra quest quotidiana perché il sistema di reputazione premendo rischi andando su friendship è molto importante ognuno ci darà qualcosa nostra ma da una volta che arriveremo a 50 arriverà e ci regalerà il cestello per la friggitrice che manca perché perché in questo gioco dobbiamo alimentarci in due modi mangiando putin c'è putin una roba che c'è qui in questa che è una schifezza buonissima penso formaggio fuso su patatine fritte e bevendo sciroppo d'acero ovviamente non fatelo nella vita entrambi possono essere autoprodotti primo il primo quindi putin coltivando patate quindi ricordandovi di bagnarle e poi raccogliendo le con il basket che comprate al negozio poi le buttate qua al sempre in città comprate il formaggio buttate tutto dentro qui le patate prima le tagliate le buttate qua il formaggio lo buttate qua e vi producete questo e non ve lo comprate stessa cosa lo sciroppo d'acero e la mamma 50 vi dà quello poi altra cosa importante all'inizio non troverete questo questo capannone questo capannone ve lo potete far costruire facendo cosa beh prima di tutto avete questo dietro casa fate sempre attenzione alla benzina ecco cosa importante avvitare è il tasto sinistro del mouse svitare è il tasto destra non vedete tenendo premuto lo svita e ci fate il carburante il carburante vedete anche qui piccolo tutorial sull'interazione degli oggetti questa è una tanica vedete che selezionando questo tasto destro svito e quindi qui posso rifornirlo tasto destro riavvito e impugnandolo premendo il tasto e posso usarlo allora troverete questo e troverete anche la motosega in giro per la ecco vi ricordo sempre di mettere gli oggetti quelli più soggetti tipo questi qui a sballottamenti nell'abitacolo non evitare di perderli anche la motosega tenendo premuto cioè premendo e si attiva e qui potete andare a tagliare gli alberi gli alberi si dividono tra betulle acero e pino tagliate principalmente il pino poi vi spiegherò anche perché che è l'albero quello più un marrone insomma non quello grigino che è l'acero una volta fatto questo vedete che premendo poi il tasto q potete zoomare andate su on e tirate la corda lui si accende cosa succede prendete questo tagliate la legna e poi la potete raccogliere e mettere nel cassone alla fine ricordatevi sempre di spegnere questo ok fatto questo le caricate dietro e la legna la potete portare per guadagnare i primi soldi e proprio l'unico modo di fare i primi soldi li portate a vostro fratello premendo m vedete che noi partiamo dove in basso a destra della dell'isola tutta a destra dove c'è scritto roulotte e lo dovete portare a dove c'è scritto pass b ma gentile non bello ma gentile in sintesi vi faccio vedere facciamo un tour adesso vi porto lì e poi vi faccio vedere la città col tasto b potete poi sciftare la visuale cosa che è molto utile togliete anche qui attivate il freno a mano col sinistro e col destro e disattivate cioè col sinistro lo attivate col destro lo togliete fr per la marcia io uso questa visuale per non uscire allora praticamente perché vi ho detto del garage il garage non c'è all'inizio c'è uno spiazzo c'è solo un piano bianco voi in pratica che cosa farete voi dovete portare seguendo questa strada verso la città la legna la legna la caricate sul cassone e poi andate avanti vi faccio vedere a un certo punto qua c'è una prima deviazione che vi porta all'isoletta mentre qua sotto dove c'è questa casa vedete qua c'è la strada che va giù la dovete portare lì dove vedete quel cerchio passate sopra col cassone e lui ve la pagherà guadagnerete anche 300 400 dollari a botta fino che gli riempite la legnaia poi dovete passare il giorno dopo vendergliela ricordatevi evitate di abbattere se potete il gli alberi di acero una volta che scendete lungo questa strada ricordatevi sempre a sinistra sulla strada asfaltata anche perché di là poi si torna sullo sterrato seguendo questa strada stando sempre a destra non evitare frontali con altra gente come questo caso arriverete in città e in città vi presento brevemente quello che potrete fare allora prima cosa all'inizio della città trovate il venditore di semi in sintesi lui cosa vende vende patate che al momento vedo che non ce ne sono vende patate e dice che noi siamo al campo servitevi da soli pagate il formaggio e le patate comprate le patate le patate le potete piantare quando prendete in mano qualcosa col destro lo lanciate ecco allora altra cosa da vedere scalo marcia allora questo è un negozio chiuso ma qui di notte si svolgono delle gare illegali anche nell'altra isola ma in questo tutorial tratteremo tutto tranne che le gare lì c'è una persona quella persona lì vi consente qualora voi perdiate oggetti non grossi come ad esempio la tannica del carburante la motosega quegli oggetti secchi li perdiate non li trovate più andate da lui pagate e lui il giorno dopo ve li fa trovare qua davanti prima cosa poi il venerdì è solo il venerdì qua vicino a questo negozio chiuso che al momento non è implementato c'è un venditore di attrezzi per l'auto cioè di componenti per l'auto alettoni parti di per le sospensioni parti del motore scarichi cerchi particolari e cofani tutto quello che è anche il nostro così e questo è roger quindi qua il venerdì potete venire se volete modificare l'auto poi vi faccio vedere l'auto modificabile una ed è la conig allora voi procedete dritti e un'altra cosa qua vedete c'è l'insegna con scritto snack delivery allora in pratica questo è l'unico posto nel gioco dove potete comprare il pot in il mangiare in pratica questa qua lo comprate ne vende 4 al giorno apri però a mezzogiorno quindi dovete passare dopo se invece passate tra le 17 e le 18 voi andate da questo lato ci sarà un cerchio sotto e andando qui vi daranno tre pizze ve le caricate in macchina e una freccia vi indicherà dove andare a consegnarle guadagnerete più o meno una ventina di dollari a pizza quindi un 60 dollari di guadagno questa invece la stazione di servizio stazione di servizio che ha un servizio molto interessante perché se smarrite invece mezzi in tipo il taglialegna io l'avevo perso una volta era completamente sparito per mentre era rotolato giù da qualche parte perdete uno di questi perdete l'altra macchina perdete mezzi carretti e balle varie andando qua pagate 99 e ve lo recupera per il giorno dopo e ve lo trovate qua nel piazzale quali interno invece vende sciroppo d'acero vende cerchioni vende gomme vende colori vende pellicole per i finestrini vende il kit per togliere le parti arrugginite c'è un il colorificio per farvi colori vende il caffè vende un sacco di cose per l'auto complementari a quello che vende quel tizio solo il venerdì in quel posto altra cosa non in realtà non avremmo finito il tour qua davanti alla città ma vi voglio far vedere un'altra cosa prima di ecco questo questo invece vende non entro vende piante decorative tavolini cose decorative ma anche i vasi per piantare le cose mentre invece la carriola non è ancora implementate implementati sono i carretti che potete mettere dietro la vostra auto mentre invece proseguendo sempre dalla strada principale qua in fondo potete vendere i tronchi quindi non la legna tagliata ma i tronchi lì dietro quella pila c'è un cerchio dove potete fermarvi sopra e vendere il il tronco pieno che viene pagato comunque la metà cioè alla fine il guadagno è lo stesso ma ne trasportate meno perché sono più ingombranti andando invece in fondo alla città praticamente andando poi in giù adesso qua non saltate mai tra sterrato e strada perché vi sballa fuori tutto vedete che c'è un piccolo saltino e tante volte vi butta fuori gli oggetti in fondo alla città invece dove c'è quel grande capannone bianco vi mostro l'ultima cosa e poi torniamo nuovamente a casa perché qua in fondo c'è una cosa molto interessante alla fine di questo capannone che è il il venditore appunto di tutto quello che riguarda la fabbricazione della della dello sciroppo d'acero in pratica qua dentro potete vendere potete vendere i barili di sciroppo d'acero li vendete il giorno dopo qua trovate i barili vuoti come succedeva in my summer car con il le bottiglie di plastica del succo qua potete comprare il barile potete comprare vari aggiornamenti che non andremo a vedere e poi qua ci sono dei diciamo degli sdoppiatori i tubi e questi che sono praticamente degli uncini che si agganciano all'interno dell'albero d'acero ed estraggono il succo il nettare adesso torniamo a casa e vi faccio vedere che cosa riguarda la fabbricazione del succo d'acero ma prima di farlo vi avevo promesso di appunto spiegarvi come funzionava la costruzione del garage in sintesi quando voi portate il legname a vostro fratello la reputazione con lui salirà in pratica vedete che francese è il nostro fratello più grande quando raggiungerà il 25 parlandoci lui ci darà una quest di consegnargli totta legname in un altro punto che è un punto vicino a dove abbiamo visto prima dove aveva la macchina vedrete proprio un altro punto consegnandoglielo lui inizierà i lavori e nel giro di una settimana circa cinque giorni vi costruirà il garage lo vedrete man mano costruirsi con le varie asse di legno quindi quando il garage sarà pronto sarà interessante perché potrete mettere all'interno l'auto e mettervi lì avete anche un bel un bel carrello per andare sotto l'auto quindi lì lascia libero sfogo alla vostra creatività la vostra voglia di migliorare il mezzo come capitava su my summer car ma ora andiamo a casa nuovamente allora siamo nuovamente a casa a casa c'è una cosa da dire là in fondo dove vedete quell'edificio là in fondo non lo troverete appena inizierete il gioco ma dovete consegnare là c'è una sorta di legnaia dovete consegnare 64 tronchi quindi non dovete tagliarli con quello ma dovete consegnare proprio i tronchi così li consegnate vengono messi immagazzinati in automatico e quindi una volta arrivati al 64 inizia la costruzione e sarà istantanea e si costruirà la domanda è devo abbattere tot alberi 10 alberi 10 11 alberi come faccio a farli ricrescere comprando al negozio dove che abbiamo visto prima la stazione di servizio questo strumento andando vicino un albero in questo caso non me lo fa fare perché l'ho già l'ho già fatto vediamo se trovo un albero questo l'ho piantato dove dove lo posso fare ma non credo perché ok vedete scende questo questo lo potete prendere premete il tasto e e ve lo fa piazzare vedete lì crescerà nel giro di una decina di giorni ora andiamo la ormai siamo a piedi anzi in realtà no devo tornare indietro perché e qua vi spiego un'altra cosa voi siete alimentati con un generatore a carburante a benzina e sulla wiki troverete perché in gioco non so dove si trova onestamente troverete un numero di telefono da fare per la l'azienda elettrica costa 28 mila dollari l'allacciamento alla corrente la corrente farà sì che in un mese vi arrivino due bollette però non dovete ogni volta accendere il generatore come sto facendo io mettendo lo suono e tirando la cordicella allora il generatore acceso una volta acceso vi dà la possibilità di accendere le luci ma adesso vi faccio vedere l'altra parte la più importante questo è lo step successivo a quando ormai avete preso dimestichezza con il gioco se volete fare qualche soldo ma in realtà fare qualche soldo non è semplice neanche con lo sciroppo d'acero perché dovete far passare diverse ore di gioco diversi step da fare qua vedete che ci sono questi questi queste linee che sono molto brutte da vedere in pratica in che cosa consiste tutto questo allora qua abbiamo il qua è alimentato sempre col generatore quello che abbiamo in visto di là in casa quindi praticamente che cosa fate aspettate che bevo lo sciroppo che ne ho bisogno allora qua all'esterno c'è questa pompa voi praticamente da qua prendete uno di questi premendo il tasto e ben estrae uno lo mettete dentro un un acero un albero d'acero praticamente poi piazzate queste torrette in modo da dividere e cliccando su questo prendendolo in mano con la e vedrete dei delle palline blu un punto dove connettere e tirerete i cavi qua vedete posso tirare il cavo e mandarlo ogni puntale che mettete dentro ha un ingresso qui e un'uscita quindi praticamente lui estrae tutto da tutti questi alberi in realtà l'ideale sarebbe metterne tanti qui magari uno qui uno qui uno qui e fare zig zag tantissimo ottimizzato in modo da collegarne fino a un centinaio con un centinaio di alberi riuscite a estrarre una tannica da 9600 litri al giorno in pratica vedete adesso il generatore è acceso la casa quindi qua funziona dice che è kind of bad 18 alberi connessi non sono tantissimi ma cosa fate per cominciare per cominciare qua io chiuso quindi ho accumulato sto accumulando adesso il sciroppo qua da raffinare infatti vedete che si sta riempiendo la prima cosa che fate è aprite buttate dentro due tre pezzi di legna prendete un giornale lo mettete qui prendete questo che lo trovate sempre nella capanna degli attrezzi tasto è per usare e vedete che si accende una volta acceso inizierà a salire la temperatura qui ma questa è la temperatura poi del del liquido praticamente qua apparendolo il liquido inizierà a fluire e la temperatura salirà tenete conto che quando siete dovete rimanere sul verde quando siete a quasi alla fine calcolate che due pezzi di legno vi portano al massimo quindi in questo caso io potrei prendere un pezzo di legna buttarlo qua dentro chiudere e adesso salirà ancora un po di più si sente un po fluire il liquido e poi sale vedete è salito qua inizierà a raffinare inizieranno uscire dei vapori appena salirà un pochino la temperatura qua potete bere al volo da qua se avete bisogno di diciamo avete il maple syrup alto e qua iniziate a riempire calcolate che la tannica totale qui è di 240 un barile sono 120 120 lo potete poi caricare e lo andate a vendere dove abbiamo visto che si compravano i pezzi diciamo i tubi e ve lo valutano 200 calcolate che potete venderne fino a 200 fino a 12 al giorno di barili e andando avanti con le settimane le prime sette settimane arriverete a guadagnare dai calcolate sono qua e diciamo che ogni settimana dopo le prime tre settimane vado ad aumentare fino a un massimo visto sulla wiki di 14 mila dollari al giorno alla settimana quindi tantissimo quindi questo è un business che dovete pianificare bene calcolate che avete bisogno sempre comunque di legna quindi di tagliare la legna metterla qui andando avanti invece avrete modo di cambiare questo comprandolo sempre in quel negozio la che abbiamo visto là in fondo o tramite posta perché c'è in giro anche un volantino da imbustare un po come e imbucare come capitava in my summer car per avere un generatore elettrico ma in quel caso il requisito è non più essere connessi a un generatore ma alla linea elettrica però ripeto la linea elettrica installarla costa 28 mila dollari quindi non certo poco l'altra cosa che vi voglio dire è che non finisce qui perché voi direte ok posso produrre il putine posso produrmi lo sciroppo d'acero e quello venderlo ma è finita qui tagliare la legna vendere la legna è finito qui no in realtà assolutamente no perché c'è jack che è il possessore della stazione di servizio se porterete la sua amicizia 25 vi permetterà di accedere alla sua discarica la discarica è vi faccio vedere sulla mappa la discarica è dove abbiamo girato a sinistra verso la città invece andando dritti e poi girando ancora a sinistra dove c'è scritto a well donk jack in alto a destra dell'isola proprio quella tutta a destra quindi bisogna lì si possono recuperare parti si possono vendere i rottami infatti io ho iniziato anche a mettere mano alla macchina gli ho cambiato i freni e praticamente i freni vecchi sono qui e potrei portarli con il quad direttamente là in in discarica e me li pagano e li riciclano potete produrre anche fertilizzante buttando comprando una cesta apposta dove buttate la roba a marcia e vi diventa fertilizzante fate crescere le colture più rapidamente qua invece ci vogliono più o meno cinque giorni per fare le patate qua dentro potete mettere tutta la roba che volete e cambiarvi tutte le parti soprattutto prendendovi questo potete andare sotto l'auto ovviamente io ho comprato due martinetti per due le avete già all'inizio gioco ne ho comprati quattro in modo da sollevarla totalmente e poter andare a vedere sotto tutte le parti che si possono cambiare ovviamente impugnando la chiave inglese vedete le viti e sono molto più semplici di mai summer car perché vedete già cosa potete fare vedete svitate con il tasto destro avvitate col tasto sinistro quindi molto semplice niente di complicato non va fatto il timing del motore insomma e questo lo potete cambiare addirittura vedete cambio automatico potete mettergli anche il manuale se volete ed è uno degli obiettivi del gioco perché perché c'è tutta una parte che io non ho ancora approfondito che si svolge sull'isola tutta sinistra e in parte anche in città di gare illegali dove potrete guadagnare pezzi dell'auto prestigiosi o soldi e qua vedete che potete andare a modificare tutto ovviamente non c'è almeno al momento ma mi lascia ben sperare per il futuro la dinamica dei liquidi quindi non c'è liquido di affreddamento non c'è olio non c'è olio del cambio non c'è nulla potete smontare e rimontare come volete io dovrei cambiare anche le sospensioni che sono brutte gli ho cambiato solo i freni davanti il problema è che vorrei cambiare anche i cerchi ma costano 600 dollari l'uno più la gomma quindi al momento non me lo posso permettere però vedete queste sono le parti che ho cambiato i freni adesso sono molto belli da vedere avete in giro da recuperare anche delle parti per il bugging che poi diventerà un mezzo tutti gli effetti ma non è finito qui perché se vagate al centro dell'isola destra dove c'è quel cerchio più grande con scritto je veux lì c'è vabbè potete viaggiare dalla città c'è una barchetta gli rifornite il carburante andate di là oppure viaggiate dalla strada all'interno in alto a sinistra dell'isola destra troverete un cancello e lì per 5.900 6.000 dollari potrete comprare un bunk e una scusate una una casetta sulla questa casetta potrete scoprire che c'è un bunker e nel bunker vi costerà tot soldi tot materiali e lì potrete iniziare la coltivazione di cose da diciamo da fumare senza fare nomi e lì si apre tutto un capitolo di guadagno maggiore di cose maggiori quindi ricordatevi sempre che ognuno ha diciamo una reputazione che potete portare avanti non ricordo che cosa faccia giacca a livello 50 a livello 50 praticamente sì possiamo andare a qualsiasi ora del giorno mi è venuto in mente a fare carburante anziché solo durante le ore di apertura tenete conto che ci sono vari giorni della settimana e vari giorni i negozi sono chiusi alcuni anche il sabato la domenica quindi dovete fare attenzione intanto qua sta andando avanti e ovviamente là non c'è nessuno che mette la legna quindi diciamo che potremmo in questo caso chiudere il tubo e fargli solo accumulare sciroppo d'acero e ovviamente adesso la produzione è minima dovrei collegare almeno 100 piante quindi devo andare tagliare i ramoscelli piantarli aspettare che crescano vedete qua io ho piantato tante cose qua voglio fare eliminerò poi tutti i maple li metto tutti la e qua ci metto solo legna da tagliare e sarà una bella una bella un bel lavoro insomma richiederà parecchio tempo non mi viene in mente nient'altro se non che ricordatevi sempre che qui c'è sempre anche sul quad col destro rimollate il freno a mano col sinistro lo attivate dovete girare la chiave vedete che è verde se non è verde vuol dire che siete con la macchia innestata e non vi parte premendo di nuovo girate la chiave lui si avvia con sempre con r aumentata la marcia con f diminuite e poi c'è anche la retro che diventa rossa e poi spegnete questo mezzo più il cosa che era il quello per tagliare la legna non vi dà il livello della benzina come in alcune moto succedeva quindi svitando il tappo potete vedere a che livello è vedete il massimo è quando arriva su qua ne abbiamo già consumata un po adesso io vi faccio vedere l'ultima cosa come far benzina è semplicissimo c'è molto più agevole di my summer car svitate credo debba spegnere però prima vediamo se riesco vedete la far benzina e intanto sta salendo questo allora la questa è una tannica da 20 litri è un peccato che non se ne possa comprare più di una ne riempite con una in mezzo tutto il generatore e il generatore vi consente anche di appunto alimentare la casa ma soprattutto salvare la partita quindi se accendete il computer questo l'avete già visto qua vedete ho comprato un po di formaggio vi sedete e giocate al computer appena il computer sia avvittivato qua c'è martin chiamando questo numero passerà uno in auto a prendervi nel caso in cui foste diciamo impossibilitati altra cosa l'unico mezzo che è soggetto a rotture è questo questo è come la la satsuma su su messa mercata vedete qua io ho toccato dentro col furgone prima col pick up e se ammaccato prima era tutta rugginita il paraurti era rosso l'ho pitturato ho comprato i kit per la ruggine l'ho fatto fuori e in se volete una una guida su quello che potete fare qua nel capanno trovate questi fogli recuperare tutte le parti del buggy fare giardinaggio si aggiungono e man mano ne partite con tarie mi pare poi se ne aggiungono altri in base a quello che fate avete tutto vedete anche solo su acquistare il cottage avere l'accesso alla discarica installare la trasmissione manuale acquistare il trailer quindi il carretto connettere la casa alla energia elettrica qua il bello che quando chiamatevi arriva una lettera voi dovete imbucare la lettera poi in cinque giorni lavorativi vi collegano però costa veramente veramente troppo qua non ho più allacciato questo a grandi linee è il tutorial su quello che potete fare all'inizio del gioco prima cosa che consiglio è abbattere alberi e portarli da francis vostro fratello ovviamente qua quando il generatore attivo potete aprire chiudere quando non lo è non lo potete fare non consuma tantissimo vi regge forse un paio di giorni pieni quindi intanto la sta lavorando comunque sta rendendo però non è non è ottimizzato guardate quanti aceri ci sono qui io vorrei fare come ho già detto una zona qua però dovrei aspettare che crescano tutti prima di abbatterli togliere dato che ogni albero vi dà solo un rametto per ripiantarlo devo togliere tutti i rametti da gli alberi che ho piantato e poi abbattere tutto e farò un bel po di legna qua quindi la legna ne vendete un po non guadagnate tantissimo 300 400 al giorno oltre no quindi fate sempre sempre attenzione anche a questo l'acqua la riempite vedete premendo e me lo fa usare se avete scarsità d'acqua cioè vi dice che è praticamente vuoto 52 lo passate qua in mezzo e vi si riempie nuovamente ecco credo di essere stato chiaro e completo nel presentarvi questo gioco costa meno di 12 euro li vale assolutamente tutti calcolando che comunque lo sviluppatore ci sta dietro e ma se marca no nel senso che ormai a fine a fine sviluppo fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima ciao 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 ciao